Che cos'è la fase di puntata di un impasto? Ciao panificatori e panificatrici, oggi parleremo della puntata, cioè la fase che va da la fine dell'impastamento alla divisione in panetti dell'impasto stesso. Ma ricordiamo quali sono le fasi di preparazione di un impasto. Si parte proprio dall'impastamento, poi si continua con appunto la puntata, si procede con la divisione in panetti, quindi con lo staglio dell'impasto stesso, per poi procedere a una formatura, quindi a una stesura o similari a seconda del prodotto che si vuole ottenere e si conclude con la cottura. Nel video di oggi vedremo come si conduce nel modo corretto una puntata, che effetti ha sul prodotto finito e soprattutto che strumenti utilizzare per fare una puntata fatta a regola d'arte. Ma prima di iniziare ti ricordo che tutti gli accessori, tutti i prodotti, tutti gli ingredienti che tratteremo in questo video li puoi trovare sul nostro shop giochidigusto.it. Se non lo conosci vai subito a farci un giretto. E ti ricordo che come sempre in descrizione trovi i marcatori di capitolo, quindi se vuoi saltare un capitolo che ti interessa, se ne vuoi approfondire uno, se vuoi scorrere in modo non lineare il video, vai in descrizione e salta tranquillamente al capitolo che vuoi vedere. Cosa succede esattamente durante la fase di puntata? La parte visibile è naturalmente la lievitazione, quindi l'aumento di volume dell'impasto dovuto all'azione dei lieviti. Una parte meno visibile è l'aumento dell'acidità e contemporaneamente tutta una serie di azioni enzimatiche che si vanno a produrre all'interno dell'impasto. Questa fase ci serve per costruire, per creare, per dare struttura all'impasto ammesso che ci serva per il nostro prodotto e naturalmente è molto importante portarla a termine con i giusti strumenti, quindi utilizzare dei contenitori meglio se trasparenti e della giusta forma che consentano all'impasto di crescere verso l'alto con una certa struttura. Questo perché il glutine ha diciamo una certa memoria e tende a mantenere e a crescere tenendo la forma del contenitore in cui è inserito l'impasto. Cosa molto importante è che non si parla mai di tempo di puntata. Il tempo è una conseguenza del volume e deciderai tu in quanto tempo raggiungere il volume che ti sei prefissato. Il volume che dovrai raggiungere potrà essere pari a una volta e mezza, a due volte, a tre volte, questo a seconda del prodotto che vuoi realizzare. Considera che maggiore sarà il volume che raggiungerai a fine puntata e maggiore sarà la tenacità dell'impasto. Questo potrà essere utile per alcune preparazioni ma ti ostacolerà per altre. Per la pizza napoletana solitamente si raggiungono volumi pari a una volta e mezza il volume iniziale dell'impasto proprio perché non abbiamo bisogno di eccessiva tenacità e soprattutto perché ci facilita nella fase successiva quella di appretto. In una pizza in teglia invece abbiamo bisogno di struttura, abbiamo bisogno di una certa resistenza dell'impasto durante la stesura e quindi tenderemo a portare la puntata a un volume maggiore. Di solito si arriva a due volte, due volte e mezzo il volume iniziale. C'è chi lavora anche a tre volte il volume iniziale. Questo però porta una certa difficoltà in fase di staglio e di formazione dei panetti. Quindi il mio consiglio è quello di cercare di non superare le due volte e mezzo del volume iniziale. Ci sono anche prodotti in cui si arriva a quattro volte il volume iniziale. Mi viene in mente per esempio la preparazione del panettone moderno. Diciamo che in linea di massima più aumenta il volume e più aumenta la tenacità dell'impasto entro certi limiti, limiti determinati dalla farina che stiamo utilizzando. Una farina debole ci permetterà per esempio di arrivare al doppio del volume iniziale dell'impasto. Una farina di media forza ci permetterà di arrivare al triplo? Una farina molto forte potrebbe farci arrivare al quadruplo del volume iniziale. Ma attenzione, la rigidità dell'impasto ha una curva quindi arriverà al suo apice diciamo più o meno al volume massimo che può raggiungere il nostro impasto e incomincerà poi a calare. Dico più o meno perché dipende da un sacco di cose, dipende dalla farina, dipende dall'idratazione, dipende dalle temperature, dipende da come abbiamo lavorato l'impasto. Però in linea di massima il volume massimo o poco meno del volume massimo coincide con l'inizio della calata, diciamo così, della rigidità e della forza del nostro impasto. L'utilizzo di contenitori trasparenti della giusta capienza e della giusta forma ti facilita enormemente nel capire quando il tuo impasto è raddoppiato, è triplicato, è arrivato una volta e mezza. E io ti consiglio di dare un'occhiata al video che ho girato qualche tempo fa proprio su come gestire la lievitazione e quali sono i contenitori corretti da utilizzare a seconda del processo che stiamo andando a realizzare. Ti metto il link qua sopra, vai a vedere il video perché è davvero molto interessante, molto breve, conceso ma molto utile. Puntata al caldo o al freddo, quindi lievitazioni in massa, in frigorifero o a temperatura ambiente? Questa è una domanda a cui ho un po' paura di rispondere a dir la verità. Però diciamo che in linea di massima il frigorifero aiuta a creare struttura, aiuta a irrigidire la maglia glutinica e aiuta quindi l'impasto a prendere una struttura più interessante quando andiamo poi a stendere o a cuocere. Non aiuta assolutamente ad aumentare la digeribilità del prodotto. Questa è una cazzata incredibile ragazzi. Le lunghe lievitazioni perché mettiamo il prodotto in frigorifero per sei giorni non hanno alcuna influenza sulla digeribilità dell'impasto. Una puntata fatta in quattro ore a temperatura ambiente e una puntata fatta in due giorni a tre gradi in frigorifero avrà assolutamente lo stesso effetto sulla digeribilità del nostro prodotto finito. Può però incidere, come abbiamo detto, sulla struttura e sui sapori. Una puntata prolungata in frigorifero entro certi limiti può dare sfumature gustative al nostro impasto e quindi può aiutarci a ottenere sapori o meglio sfumature diverse una volta che avremo cotto il nostro prodotto. Naturalmente in quei prodotti dove non ci interessa aumentare le sfumature gustative del prodotto finito, del prodotto cotto, mi vengono in mente i Bans dove c'è una grossa percentuale di burro e di uova, mi vengono in mente focacce magari farcite con olive, con tanto grasso, con tanto olio. In quel caso fare una puntata in frigorifero lunga non ha molto senso, non abbiamo bisogno di struttura e non abbiamo soprattutto bisogno di apportare sfumature gustative che tanto non sentiremmo all'interno del prodotto. Posso aumentare o diminuire il lievito per regolare i tempi col quale il nostro impasto in massa lieviterà? Fondamentalmente no, il lievito va dosato in base a tutto il processo. Se dovessi diminuire il lievito per avere una puntata più lunga probabilmente mi troverei poi in difficoltà in fase di appretto quindi nella lievitazione poi successiva dei nostri panetti. Se invece dovessi pensare di aumentarlo per avere una puntata più veloce avrei la stessa difficoltà nella fase successiva quindi dovrei rincorrere un impasto che lievita molto velocemente. Non pensare alla realizzazione delle due o tre pizze che fai nel weekend. Pensa sempre che la tua ricetta deve funzionare per le tue due o tre pizze ma deve funzionare anche quando c'hai ospiti e quindi quando magari devi andare a produrre dieci pizze, dodici pizze o quando devi andare a produrre sei, sette teglie di buns, quattro, cinque focacce. Un impasto che corre velocemente ti porterebbe in difficoltà avresti le ultime pizze e gli ultimi panini molto diversi dai primi probabilmente peggiori. Una cosina da tenere in considerazione prima della fase di puntata sono le pieghe di rinforzo. Allora le pieghe di rinforzo non vanno sempre fatte e per forza per esempio se impastiamo con l'impastatrice a spirale le pieghe dovranno essere fatte solo ed esclusivamente per ricompattare l'impasto e infilarlo nel nostro contenitore. Mentre possono essere utili e sicuramente necessarie se impastiamo a mano o se impastiamo in planetaria. Vanno sempre valutate in base alla consistenza dell'impasto. Se l'impasto esce da un'impastatrice o da una planetaria molto stressato, molto rigido, molto teso, non dobbiamo esagerare con le pieghe, potremmo danneggiarlo. Dobbiamo fare giusto quelle due pieghettine che ci servono per riassettarlo e metterlo dentro il contenitore. Niente di più e niente di meno. Inoltre non pensare mai alla puntata come una fase a sé stante. Ragiona sempre pensando a quello che viene dopo, quindi alla fase di staglio, all'appretto, alla stesura, alla cottura. Con la puntata getti le fondamenta che ti permetteranno di approcciarti alle fasi successive nel modo più semplice possibile. Migliore sarà la puntata e più facili saranno le fasi successive. Riassumendo, per quanto riguarda la fase di puntata, focalizzati sul volume che vuoi raggiungere in base al prodotto che devi realizzare e non in base ai tempi. Dosa di puntata e i tempi e i volumi che devi raggiungere durante la fase di appretto. Modifica i tempi di lievitazione sia durante la puntata che durante l'appretto bilanciando i tempi di permanenza a temperatura ambiente e in frigorifero dell'impasto e cerca di non toccare troppo le quantità di lievito utilizzate per quel determinato processo. Ultimo ma non ultimo, utilizza gli strumenti e le farine corrette. In questo caso utilizzerai contenitori trasparenti della giusta forma e della giusta capienza in base al peso, al volume dell'impasto. Per questo mi riallaccio, marchetta finale, sullo shop giochidigusto.it. Trovi tutti i contenitori per tutte le fasi, per tutte le capienze e per tutte le esigenze che ti possano venire in mente. In descrizione ti lascio il link di quelli corretti da utilizzare per le fasi di puntata e naturalmente ti metto anche un paio di contenitori che ti possono servire per le fasi di appretto. Bene io ti ringrazio per avermi sopportato fin qua, il video di oggi è terminato, io ti saluto. Se il video ti è piaciuto e soprattutto se ti è stato utile ti invito a mettere un like, a seguire il canale ed attivare la campanellina perché a me fai un piacere davvero enorme. Ti do appuntamento al prossimo video qui sul canale youtube di Giochi di Gusto. Ciao alla prossima!